Con Matteo Bennati e Maurizio Scarcella per parlare del loro film 1212 Piazza Fontana in programmazione il 12 dicembre 2019 al Nuovo Cinema Palazzo a Roma e il 13 dicembre al Centro Sociale Forte Prenestino in contemporanea al Branca Leone. Bentrovati! Salve, ciao! Chiariamo subito che si tratta di una copia lavoro, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Intanto io sono Maurizio e qui con me ci sta Matteo, i miei collaboratori. Di cosa stiamo parlando? Allora è un documentario diciamo che parla di Piazza Fontana vista diciamo dagli occhi di quello che è stato il circolo 22 marzo che veramente era un circolo anarchico che è stata una scissione da un altro gruppo più grande che era il Bagunin e questo diciamo gruppo fu poi accusato di essere esecutore della strage perché era il gruppo dove si trovava anche Valbreda. Abbiamo deciso di raccontare questa storia perché è verica in realtà cioè loro non hanno mai raccontato la loro storia come l'hanno raccontata a noi e quindi abbiamo deciso ecco di dargli voce perché pensiamo che diciamo la loro testimonianza sia importante per anche ricostruire quella che è ancora arrivavano dei misteri italiani dell'assurdo perché è una strage senza colpevoli a 50 anni quindi insomma forse la loro dichiarazione l'abbiamo disenuta importante. Come è nato il progetto di questo film? Principalmente perché noi avevamo comunque un filo che ci legava perché Matteo comunque ha militato e militato ancora insieme ai compagni Roberto e anche con Enrico Di Cola presso la sede del Bagunin che sta a Leverbadella. Allora è un secondo momento infatti dopo che comunque lui si era incontrato e loro stessi hanno richiesto infatti un aiuto da parte di Matteo che già è riuscito con il suo piccolo capolavoro che è Mondocane. Allora ha deciso quindi di contattarmi e di mettermi in mezzo a questa passata storica e quindi abbiamo cominciato quindi a realizzare delle interviste all'inizio per eliminare e poi a impuntarli e a strutturarli in una maniera un po' più incentrata nel realizzare un documentario che sia testimonianza come diceva pure Matteo prima e di racconto di quello che hanno specifico del 69 e poi un periodo che è tutto quello che verrà dato dopo il 69 e dopo quello che è lo scopo della bomba a Milano. Ecco, che struttura avete dato al film? Si parte diciamo da quello che era il 68 perché loro comunque erano studenti delle superiori. Loro si definiscono studenti medi però poi in realtà era diversa un po' la distruzione poi abbiamo coperto che era diversa, nel senso che erano tre anni di medi e poi c'erano due anni di superiore più tre quindi insomma c'era tutto un... era diverso diciamo come non era come oggi. Quindi abbiamo strutturato la loro amicizia che nasce da banchi di scuola e purtroppo invece finisce sui banchi di imputazione per la strage. Quindi diciamo abbiamo rispetto di partire da quei banchi più innocenti per farli invece poi rincontrare purtroppo sui banchi di appunto dell'accusa dove erano sempre innocenti. Comunque questo ci aveva colpito molto questo fatto che loro erano partiti diciamo con le buone intenzioni che comunque credevano in una possibilità comunque che in un altro mondo era possibile e invece poi si sono ritrovati purtroppo a essere accusati di un gesto così infame come quello che è stato la strage di Piazza Fossana e in Roma. Quindi diciamo abbiamo deciso di strutturarlo diciamo è comunque anche una crescita che è stata loro politica perché comunque anche diciamo iniziare dalle occupazioni di scuola per poi arrivare a uno sciopero della fame perché diciamo è il loro momento che hanno portato avanti di lotta è stato uno sciopero della fame infatti portato in concomitanza all'inizio del 69 con un altro gruppo di Milano che è fatto apposta per delle bombe che scoppiarono ovviamente il 25 aprile a Milano e quello fu per esempio un momento di lotta che era molto importante ma anche molto importante e tutto il restante poi della storia. Anche perché loro li incontrano sia Pinelli e a Milano incontrano Valpreta Sura al contrario incontrano a Roma, Valpreta e a Milano Pinelli quindi poi diciamo che quello che loro poi diciamo di messaggio danno anche nelle interviste è che probabilmente loro li avevano proprio inquadrati come possibili accusati nel senso perché avevano queste amificie che erano diciamo i mostri pezzetti in questo senso e però poi dopo crolla tutto anche grazie al lavoro che c'è stato poi di lotta esterna perché poi affrontiamo anche quello nel senso che grazie anche al libro a tragio di Stato la candidatura di Valpreta al manifesto insomma loro riescono comunque a dichiarare la loro innocenza anche grazie al movimento che c'è fuori quindi diciamo questo non l'abbiamo dimenticato abbiamo deciso anche di appunto parlare di questo nel film perché comunque ci è sembrato importante ricordare anche quanto era molto più rita probabilmente la lotta in confronto ad oggi ecco diciamo è anche un modo di far vedere come era in confronto ad oggi diciamo anche perché sono passati 50 anni quindi sono mezzo secolo quindi indubbiamente sono cambiati sia i costumi anche i metodi di lotta oggi è intensabile provare a fare anche uno sciopero della famiglia nel senso così 15 persone diciamo che un approccio infatti interessante è stato proprio questo cercare di analizzare a livello storico come ci possono e ci sono anche delle differenze non tanto nei movimenti ma anche come sentire la lotta individualmente perché come prima i personaggi di questa storia comunque noi li prendiamo che sono dei ragazzi e li portiamo a quando diventano adulti a quando veramente si sposano, hanno figli quindi è anche proprio questo approccio qua a vedere come da giovani comunque sia ci stava qualcosa che oggigiorno è anche difficile da riuscire a far approcciare magari ad un'altra generazione che tipo di circuitazione state pensando? in questo momento abbiamo un accordo commerciale con l'archivio del movimento operario democratico in questo momento quindi abbiamo deciso di far girare questa copia lavoro proprio perché diciamo nei momenti di ricorrenza abbiamo pensato che era giusto che loro perché loro comunque hanno continuato un millennio a fare sempre delle commemorazioni diciamo della strage e portare avanti ricordo sia di Pinelli che di Valtreta e quindi diciamo abbiamo deciso che potrà essere uno strumento nelle loro mani per appunto raccontare meglio la loro storia nel senso che il film comunque racconterà la storia attraverso sempre le loro voci però le racconterà diciamo con il linguaggio filmico mentre loro comunque dal vivo in genere raccontano anche dettagli molto più felici quindi diciamo che anche quello che è stato il processo noi lo affrontiamo però certo lo affrontiamo in una maniera filmica quindi comunque diciamo ci sono anche dei salti temporali tra diciamo il 72 e il 74 perché comunque poi dopo si scopre che la pista era nera all'inizio si pensava che era la sinistra poi invece si scopreva l'estrema destra per messo le bombe quindi comunque diciamo loro raccontano dal vivo in maniera diversa comunque tutta la loro storia e quindi diciamo abbiamo pensato di usare questo strumento nelle loro mani quindi sarà anche diciamo un modo per girare anche altre sequenze in realtà quindi probabilmente il film nella sua completezza uscirà nel 2020 e la circolazione ancora non ci abbiamo pensato in realtà però pensiamo di farlo girare forse per qualche scegliere per qualche festival per dare più che altro una risonanza il più possibile ampia anche da un punto di vista comunque sia direttamente circolattivo magari si può dire principalmente però mantenendo anche quella della natura indipendente questo ricordiamo e sottolineiamo che è un film totalmente indipendente sotto come noi andiamo magari definire una scarpa e una ciabatta production quindi con tutti i dovuti limiti ma anche le libertà tecniche e stilistiche infatti cogliamo anche l'occasione di tutti e tutte quelle che hanno lavorato diciamo al film sì sì a ringraziare soprattutto chi ci ha dato una mamma in forma gratuita quindi insomma è stato anche noi abbiamo lavorato in forma gratuita abbiamo sentito di doverlo fare e diciamo non ce ne stiamo sentendo assolutamente no assolutamente no è una bellissima esperienza fino adesso e speriamo di portarlo avanti infatti nelle prossime proiezioni con il pubblico e permettere quindi come dicevamo prima di rapportarsi anche con il pubblico durante queste proiezioni permettendo comunque ai nostri personaggi che riprendiamo di dare modo a loro anche di specificare magari dei dettagli delle cose che sicuramente dal vivo sarà anche più interessante sentire in chiusura ci date appunto tutti i riferimenti per saperne di più sul lavoro? allora sì abbiamo una pagina facebook che si chiama 12 slash 12 trattino piazza fontana comunque si trova anche perché abbiamo deciso di usare questa data che vi rende il titolo di un film di Pasolini in realtà fatto con l'otta continua che era 12 dicembre ci sembrava brutto rubare a uno dei maestri del titolo quindi abbiamo deciso di dargli diciamo una connotazione più una connotazione più alla Michael Moore dicendo usando questo font 12 slash 12 come 11 settembre perché diciamo che è stata una data molto importante diciamo nella storia d'Italia quindi abbiamo deciso di dargli questa diciamo che quello è stato il nostro 11 settembre diciamo in un certo punto di vista sì 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 e quindi diciamo sulla pagina facebook chiunque vuole contattarci anche per proporre delle proiezioni o comunque ecco abbiamo anche ricevuto tramite la pagina del materiale dell'epoca che se qualcuno ha delle foto da parte insomma ci fa piacere laverle magari anche inserite nel montaggio e quindi diciamo sì questa è la pagina e da lì diciamo rispondiamo a tutti quindi possiamo essere contattati lì Proiezione della copia lavoro del film 1212 Piazza Fontana il 12 dicembre 2019 al nuovo cinema Palazzo a Roma e il giorno dopo il 13 in contemporanea sia al centro sociale Forte Prenessino che al Branca Leone un saluto e un ringraziamento ai registi Matteo Bennati e Maurizio Scarcella un abbraccio in bocca al lupo a risentirci presto grazie a voi a voi